A Fatitaliani.it c'è Mariangela D'Abraccio, buongiorno Mariangela, protagonista della Lampadina e Galleggiante, un testo di Woody Allen, in scena dal 17 gennaio al Teatro Quirino di Roma, diretto da Armando Pugliese. Però ecco, protagonista, last minute possiamo dire, giusto? Perché sostituisce la sua collega Giuliana Di Signò. Può spiegare un po' la situazione in breve? Sì, purtroppo per me, perché in cinque giorni è veramente un massacro, ma lo faccio volentieri, nel senso non volentieri per la situazione, ma perché purtroppo fa parte del nostro lavoro andare sempre in scena e comunque, quindi la Lampadina Galleggiante, è un bellissimo testo di Woody Allen, con dei sapori un po', si è detto eduardiani perché popolari, perché popolari, perché all'interno c'è la famiglia, c'è la famiglia anche con tutte le sue contraddizioni e durezze. È un testo che ha un sfondo chiaramente duro, quasi tragico, però chiaramente Woody Allen con la sua intelligenza e quel taglio di battuta così, appunto, particolare, tutto suo, strappa anche dei sorrisi, delle risate, dei momenti surreali, ecco. Quindi è un testo veramente completo. Quanto conta l'arma dell'ironia nell'affrontare anche certe situazioni? Beh, l'ironia è importante nella vita, ti protegge, anche dalle tragedie, dal dolore, ti dà la possibilità di difenderti. È una bella arma, ti fa star meglio perché spezzi quello che è il momento tragico, quindi è una grossa, grossa, grossa arma. Il personaggio che lei interpreta ha luci ed ombre. È una donna che cerca di dare il meglio per la propria famiglia, ma allo stesso tempo vive le proprie frustrazioni in modo intenso. Come si è calata, anche se in poco tempo nei bagni del personaggio? Io andrò in scena con molto istinto, nel senso che sto assorbendo tutte le notizie, sto assorbendo tutto il copione e l'input dei miei colleghi e la regia soprattutto. Però chiaramente il personaggio è scritto molto bene e la commedia è scritta molto bene, quindi è molto chiaro. È una donna che ha fallito come tutta la sua famiglia, nel senso che anche i figli stessi già si capisce che non avranno grande fatura. Quindi è una donna che si è anche un po' indurita, perché quando senti che hai fallito la tua vita ti incattivisci anche un po', ti indurisci, sei disperata, anche ti sembra che qualsiasi cosa sia la cosa di forse ti può far scappare via di qui. Quindi si attacca a questo figlio, a questo potenziale mago che potrebbe anche far successo, far carriera e quindi risolvere il problema. Quindi è un ruolo tragico con forza e senso ironico per la tragedia. E invece Teresa la ladra? Teresa la ladra? Anche quella è una donna del popolo, però è diversa perché lei è solare, gli capitano tutti i colori, esce e entra dalla galera, va a finire in manicomio, gli uomini la fregano sempre. Però è una buona, non si indurisce mai Teresa, al contrario, non si indurisce mai, qualsiasi cosa rinasce, rinasce sempre solare, crede sempre un domani, dice di cambiare e poi rimarrà sempre ladra. È una donna piena di vita, simpaticissima, buffa da morire, comica involontariamente. Il precedente è cinematografico perché Teresa è stata interpretata da Monica Vitti. Da Monica. Portarla al teatro ma con questo precedente illustre mette un po' di timore? Beh, chi fa questo mestiere è sempre abituato alla fortuna di fare magari grandi ruoli, sempre abituato a un paragone, un precedente. Qui devo dire la verità, io in passato ho fatto anche ruoli che aveva fatto la Magnani, quindi grandi rischi. Però io dico sempre, quando c'è un grande esempio davanti non puoi mai fare male, puoi solo prendere qualcosa e fare qualcosa di tuo, perché capisci quanto il ruolo è bello se qualcuno lo fa bene. Qui in questo caso di Teresa è diverso perché Teresa si stacca molto dal film, perché è un'opera musicale questa nostra, è un teatro canzone, è un'operetta. Io sono accompagnata da cinque musicisti e c'è una cosa molto importante, l'entrata di Sergio Cammariere, perché Sergio ha scritto tutta la colonna sonora dello spettacolo e otto canzoni nuove, inedite, per Teresa Lalati, che io canto nello spettacolo. Quindi è una cosa che si va ad aggiungere al film e al romanzo, cioè c'è anche un'operetta su Teresa Lalati. Grazie a Mariangelo, ad abbraccio. Grazie a voi.